Il giorno delle strategie, strategie nel PD e nel PDL, strategie che potrebbero incrociarsi molto presto. È mattina presto quando Berlusconi ridimensiona tutta ad una battuta, uno scherzo, una retromarcia sulla convenzione per le riforme, visto che lo stesso Cavaliere si era definito il migliore per presiederla. Tanto io ho buttato lì una battuta scherzosa, entrando in Senato una volta, quando mi hanno detto ma chi potrebbe essere, e io ho detto ma chi, se non Silvio Berlusconi, e poi mi hanno domandato subito ma perché, perché io sono il più bravo di tutti, ma stavo evidentemente scherzando. Una battuta dunque, un passo indietro, la sua presunta candidatura all'organismo bipartisan per le riforme aveva suscitato non poche polemiche, uno scontro tra PD e PDL che anche in queste ore sono ai ferri corti per la vicenda delle commissioni giustizia. Tra i più critici nel PD, Fassina, ma anche Renzi, le parole di Berlusconi sembrano arrivare proprio per calmare gli animi ed evitare di spaccare l'esecutivo su qualcosa che potrebbe essere intestato come responsabilità del PDL. Il PD da parte sua ha le prese con l'avvicinarsi dell'assemblea di sabato, dove dovrà essere presentato il candidato o la candidata che dovrà guidare il partito al congresso. Oggi pomeriggio il coordinamento del partito si riunirà con i segretari regionali. Tracciare un profilo non è semplice, ma in discussione ci sono anche le regole del gioco. Questa mattina a Roma è arrivato Matteo Renzi e ha incontrato Bersani, un incontro definito sereno, cordiale, veloce, per ribadire che non ci sono veti e che il nome dovrà trovare un largo consenso. Renzi non parteciperà al caminetto di questo pomeriggio, mentre si recherà a Lanci e ancora prima incontrerà altri parlamentari del PD, a cominciare da Franceschini. Il nodo non è solo il profilo del candidato, lo statuto del PD non prevede un reggente, per la verità prevede anche una cosa che al momento non è sostenibile, cioè che il segretario è il candidato premier. C'è anche il problema di sistemare lo statuto così. Come e quando modificarlo è da decidere. Ma il passaggio potrebbe essere determinante, anche per dare poi il via libera ad un nome. Cuperlo, Epifani, Finocchiaro, ma anche Castagnetti e Speranza, che però si sono tirati fuori, sono i nomi che circolano, anche se Bersani assicura che da lui non arrivano proposte. Spero che esca un maggior senso di responsabilità, dice, rispetto ad alcuni recenti episodi.